Siamo un'associazione amici di Ale, siamo nati per andare a supporto nelle famiglie dove ci siano stati vegetativi. Siamo qui proprio per far nascere la casa dei risvegli a Pordenone, come quella di Bologna. Noi offriamo delle cose che sono tutte naturali, fatte proprio in casa, da persone che hanno dedicato del tempo, fatte proprio a mano, come queste borse per esempio, che sono in lanna cotta e sono molto particolari, ce ne sono di vari tipi, dei centrini, fatti a mano, a uccinetto, ci sono dei coppi in legno. La cosa bella è che sono proprio fatte a mano. La Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Pordenone propone un'iniziativa che pensa alle famiglie e ai bambini che non possono permettersi un Natale come gli altri. In che cosa consiste? Consiste nel raccogliere giochini usati e nuovi e materiale didattico e libri di fiabe per poterli dare in dono appunto a questi bambini il 23 di dicembre, che una domenica avremo un pranzo con loro e verrà a Babbo Natale a consegnare questi giochini e questo materiale didattico e daremo un dono loro anche delle scarpe nuove che abbiamo ricevuto in dono, come detto, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.